bene bene che dice ce lo togliamo l'elmetto è fennuto questa guerra cioè possiamo stare tranquilli adesso ha fischiato l'arbitro tutto a posto i tre punti ce li siamo portati a casa abbiamo ancora lo scudo puntato tutta la formazione bardata di armatura con lo scudo tutti quanti pronti a fermare l'avanzata di non si sa bene chi però l'importante averla vinta perché come diciamo sempre in questi video alla fine non importa come nella singola partita si intende perché poi nell'economia della stagione ti serve tutto però l'hai vinta questo è l'importante vabbè il primo tempo ragazzi c'è qua il primo tempo secondo me non si riesce neanche a parlare di tattica di approccio perché è proprio una questione che io ho visto una squadra dove anche le cose più semplici venivano sbagliate passaggi a un metro lanci tentativi di dribbling tentativi di contrasto cioè alla fine il primo tempo è stata la fila del passaggio sbagliato cioè tra politano a Kvara e Lukaku penso che gli sono arrivati 3-4 palloni giocabili a testa magari anche soprattutto per colpe loro ci sta pure come ragionamento ma la quantità di passaggi sbagliati per me non sono giustificabili cioè non è possibile non è possibile soprattutto a Lukaku che quando veniva incontro gli facevano il passaggio in profondità quando andava in profondità gli facevano il passaggio di venire incontro poi vabbè lui terrificante e quando finalmente gli riusciva ad avere a ricevere il pallone non era capace neanche di proteggere palla e la perdeva subito mi ricordo soltanto una situazione dove far vedere che riesce ad avere un pochino di garra e si va a guadagnare pure quel calcio di punizione contro l'esposito ma per il resto veramente terrificante Gilmour ha fatto una brutta partita nel primo tempo nel secondo si è abituato un pochino ha sciolto il ghiaccio però primo tempo veramente pure lui pessimo ma come McTominay nel primo tempo pessimo anche lui cioè alla fine abbiamo visto soltanto gente che cercava di arginare i tentativi dell'Empoli in tutti i modi e senza sfruttare le transizioni positive con l'intento di andare a far male in contropiede perché quando tu appena riesci a recuperare palla il primo pensiero è spazzare il pallone più lontano possibile cioè è proprio matematico che non farai azioni da golla è impossibile cioè di solito quando uno ha questo atteggiamento difensivista poi cerca di sfruttare gli spazi che lascia la squadra avversaria che si fa così tanto proprio per far male in contropiede ma noi abbiamo passato il primo tempo solo a spazzare cioè tutti quanti anche perfino caprile che quando gli capitava il pallone che gli arrivava da quelle parti la prima cosa spazzare dove non c'era nessuno se non soltanto lukaku che puntualmente non ha vinto neanche un duello aereo cioè veramente quindi è proprio facile fare una partita pessima se questi sono i presupposti nel secondo tempo è cambiato semplicemente che ci è capitato l'episodio a favore poi vabbè coinciso con il cambio lukaku fuori e spinazzola pure lui inguardabile in questa partita ma tutto quanto è pure racmani proprio c'è racmani si è impegnato per farci subire gol in questa partita se non c'era buongiorno che ha fatto il lavoro anche per lui sta partita buongiorno è l'unico giocatore che ha giocato la partita 90 minuti l'unico che si è fatti 90 minuti oggi è stato buongiorno insieme anche a me a capire che quando gli è capitata la la situazione dove doveva intervenire è sempre intervenuto bene per il resto veramente una partita dove ci possiamo portare a casa soltanto il risultato e comunque la consapevolezza che come avevamo detto anche nella conferenza stampa per Antonio Conte questo significa forza c'è una squadra che consapevolmente lascia il pallino del gioco all'avversario e soffre nella sofferenza non subisce gol e si porta a casa i tre punti per Antonio Conte significa essere una squadra forte quindi se vogliamo credere ad Antonio dobbiamo dire che oggi il Napoli si è dimostrato per l'ennesima volta forte se non ci vogliamo credere dovremmo dire che il Napoli questa 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 partita l'ha vinta magari con l'episodio fortunato che ti è capitato ma se continua a giocare così se ne usciamo con le ossa rutto quale sarà la verità vedremo allora per me il problema lo sapete bene perché io l'ho sempre detto su questo canale non l'ho mai nascosto io non favoreggio il calcio difensivo però quando è fatto bene a me piace nel senso che c'è un valore che è innegabile del calcio difensivo il problema è che quando abbiamo difeso abbiamo difeso male e per me non è c'è un problema se tu decidi di fare poche transizioni o disorganizzate quando per esempio abbiamo provato a lanciare sempre lungo vabbè lo posso pure capire però nel frattempo la fase difensiva la stai facendo bene no perché Caprile ha dovuto fare un intervento che è stato molto difficile da fare quello con la gamba e si è dovuto disimpegnare in altre uscite che se non le faceva bene potevano essere pericolose quindi Caprile viene probabilmente l'unico che può mettere in difficoltà come migliore in campo è Clara per il rigore ma la partita di Caprile è stata per 90 minuti fondamentale perché se non ci fosse stato lui non so se ce la portavamo a casa peraltro si è visto anche un po quello che aveva avuto modo di notare nelle precedenti uscite dell'Empoli una squadra che crea per quanto difenda molto bene una squadra che crea attraverso la facilità dei suoi giocatori di fare l'uno contro uno oggi abbiamo perso un sacco di uno contro uno in questa partita però non hanno il finalizzatore non hanno quel giocatore che riesce a mettergliela dentro con continuità l'abbiamo visto pure noi ne abbiamo anche goduto in realtà perché questa vittoria non so se la fai se l'Empoli ne riesce a mettere anche solo uno nel primo tempo in porta poi il portiere fa parte del gioco lo diciamo sempre per cui a me va bene mi va benissimo che tu abbia rischiato ma hai avuto la forza di uscire fuori quello che non mi va bene è che si difenda male nel secondo tempo abbiamo difeso un pochino meglio però comunque pezzella su quella fascia ha fatto quello che voleva finché non si è stancato e quindi io mi interrogo ancora una volta sull'utilità di avere dei giocatori che servono soltanto per fare prestazioni difensive in questo caso di lorenzo e politano poi quando deve uscire politano entra pure mazzocchi e allora l'altra volta in risposta alla reaction sulla conferenza stampa che abbiamo fatto alcuni ci hanno ripreso perché avevano suggerito che avessimo malinteso le parole di conto in conferenza stampa ma invece se ne riesce entra per quara e mazzocchi entra per politano mi sa che è eloquente non abbiamo frainteso niente noi proprio a destra è una catena quasi esclusivamente difensiva col politano che se riesce a farsi la cavalcata forse diventa offensiva e a sinistra c'è quella offensiva e basta ma te lo fa capire anche l'ingresso di mazzocchi cioè mazzocchi è equivale a politano nella testa di conto cioè quindi ballottaggio a destra e mazzocchi politano a quanto pare per il discorso su caprile c'è sì alla fine restiamo più o meno sempre sulla stessa sulla stessa conti c'è ecco è continua questa cosa delle occasioni che la che concediamo all'avversario e secondo me proprio il senso sta proprio nel fatto che tu gli lasci quella occasione lì alla fine sempre un tiro dalla distanza quindi un tiro che non è mai a tu per tu con il portiere e fortunatamente noi ci possiamo permettere sia con meretti che con brancaprile di avere due portieri veramente forti tra i pali e questo più o meno secondo me si basa proprio tutta la nostra strategia difensiva c'è la consapevolezza di essere una squadra che c'ha due portieri che se vengono presi se vengono impegnati con i tiri dalla distanza difficilmente subiamo gol quindi io finché se abbiamo due portieri forti 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 tra i pali secondo me possiamo stare tranquilli poi ovviamente sicuramente ci capiterà quello la tipo come è successo con strefezza nella scorsa partita il giocatore avversario che sementi il tiro della domenica e segna lo stesso però il tuo ragionamento non fa una piga il fase offensiva il problema che io ho riscontrato è sempre lo stesso ovvero la dipendenza che noi abbiamo nei confronti di lukaku io in tutto questo tempo e senza alcun problema perché li ho accettati li ho accettati e anzi ringrazio chi me li ha fatti perché mi ha fatto capire qualcosa che magari non sapevo ma io per tutto questo tempo ho continuato a subire paneggirici e sermoni sull'importanza di lukaku tatticamente per questo napoli e io dico è vero è vero però uno deve sempre sottolineare che la imprescindibilità tattica di un giocatore non può superire alle sue mancanze individuali quando sono così tanto palesi io non voglio offendere le squadre che abbiamo affrontato in precedenza a cui non metto in mezzo la juve perché la juve invece l'ha fatto bene ma è chiaro che le giocate che riescono al lukaku nascono quasi sempre sia da una bravura personale ci mancherebbe così come dal fatto che spesso i difensori sono paurosi nei suoi riguardi oppure gravitano eccessivamente attorno a lui e liberano lo spazio altrove quando tu trovi queste squadre così come l'empoli che non si fanno problemi ad essere molto aggressive e quindi lo sfidano sul tempismo a lukaku e non lasciano spazio sulle ali perché non gravitano attorno a lukaku tu hai una squadra che ti ha bloccato completamente offensivamente parlando che qui non è soltanto una questione di lukaku perché se lukaku non gira in questa squadra purtroppo quara non trova lo spazio per esprimere se stesso la stessa cosa politano allora è corretto affidarsi così tanto su un giocatore che se poi non sta bene ti crea dei problemi perché l'entrata di simione non è che è entrato in un fenomeno io voglio bene al simione ragazzi però non è che è entrato in un fenomeno alla forma fisica per fare bene il mestiere e la difesa dell'empoli viene scombussolata da un da un modo di girarsi che è normalissimo ma che per la velocità di lukaku che è un pachiderma in questo momento sembra inarrivabile il problema sta sempre lì devi sapere equilibrare le tue richieste tattiche che sono importantissime lukaku ha giocato un ruolo fondamentale in questo napole finora ma lo devi equilibrare a quelle che sono le necessità della partita diciamo che cambia da partita a partita perché poi lukaku oggi ha giocato male magari la prossima gioca bene oggi proprio inguardabile infatti conte abbia da scaldare simione già dal primo tempo non mi capacito come abbia potuto aspettare ancora però oggi veramente non c'era proprio e il cambio andava fatto prima poi anche su simione che lui simione è proprio un giocatore in questa stagione sta dimostrando proprio di avere una determinazione particolare e io me la sento di premiare comunque la prestazione di simione cioè senza fare il paragone con lukaku cioè simione ha dato proprio quel qualcosa in più perché è entrato come magari serviva in questo momento cioè non serviva quell'attaccante che facesse le cose fatte nel modo più ordinato possibile cioè quando doveva entrare un giocatore che da solo voleva dare fastidio voleva dare fastidio più o meno al ai piani di dell'empoli che aveva praticamente bloccato tutte 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 le le situazioni che potevamo venire a creare potevamo creare in questa partita e quindi facendo entrare in un giocatore così tanto esuberante proprio emotivamente parlando si sono subito scombustolati piani e poi va boh l'episodio del calcio di rigore è ovvio che incide cioè simione alla fine ha giocato solo con il napoli che steve già in vantaggio quindi pure quello fa la fa la differenza questo c'è da dire e neres bello è entrato ha fatto che burdelle come fa sempre che cazzo stavolta non ha fatto né assist e gol però è sempre bello vedere neres mi chiedo se prima o poi lo riusciremo a vedere al post di politano la titolare oppure anche al post di quara perché se il ballottaggio è quello io mi auguro che prima o poi questo giocatore troverà una collocazione perché è un peccato tenerlo in panchina io perciò ragazzi continuavo da anche durante la conferenza stampa essere triste delle dalle dichiarazioni di antonio perché un conto è se devi sfidare politano nelle gerarchie un conto se di sfidare quara qua rischiamo che facciamo per l'annissima volta l'errore di prendere un giocatore in estate prendendo una bella cifra tipo come è successo con l'instrom e siccome ci sono delle gerarchie fisse così tanto forti che quella di quara già la conoscevamo perché quara gioiello del napoli che tiene pure un valore di mercato incredibile quindi se poi lo metti fuori lo metti in panchina lo sapete no che poi 100 milioni che magari quel napoli non ci mette niente a scendere il valore di mercato di quara anche per una situazione economica probabilmente quara non potrà mai perdere il posto anche se sa piccico tutta squadra e compreso l'allenatore se poi abbiamo intenzione di venderlo probabilmente non si farà da parte e quara sarebbe stupido proprio da parte dell'allenatore della società l'allenatore poi lo voleva fortemente quindi di quara già lo sapevamo che sarebbe stato un punto fermo di questo napoli scoprire che improvvisamente è diventato anche politano un punto fermo di questo napoli a meno poi come fa venire la tristezza addosso perché penso che magari nero e secco è partito benissimo con gol e assist poi parliamoci chiaramente per quanto possa essere forte questo ragazzo veramente non è credibile che possa avere sempre quest'impatto dalla panchina perché non non saresti un giocatore normale cioè saresti un giocatore che appartiene a una categoria superiore della normalità alla normalità e quindi a meno che non continua così a raggiungere veramente i 10 15 gol stagionali anche entrando dalla panchina e anche gli assist ma non credo che continui così se poi vediamo che anche entrando dalla panchina lui inizia un pochino a rendere di meno rischiamo che facciamo la stessa fine che ha fatto l'instrom che era arrivato che comunque tutti quanti avevano sensazioni positive su di lui e se n'è andato via l'averton che a tutti quanti l'hanno pigliato a pesci in fascia anche sfottendolo malamente proprio io mi auguro che neres non farà più o meno la stessa carriera a napoli perché vuoi non vuoi tu un acquisto se la cosa se lo compri e se poi non gio non lo fai giocare purtroppo si svaluta lui magari si si deprime io spero che neres riuscirà a mantenere sempre questa questa verve questa voglia di dimostrare però mi dispiace veramente tanto per questo giocatore sono sono triste veramente triste io voglio chiarire soltanto una cosa chi chi ci ascolta io sono io sono contentissimo per la vittoria e lo è esultato come non mai però se in questo video particolarmente a me sentite un pochino torvo è semplicemente perché per me questa è l'ennesima partita che il napoli deve cambiare in corso d'opera per andare a vincere però uno potrebbe dire ma tanto tu le stai vincendo tutte che vuoi di più no in realtà voglio di più semplicemente perché è successo già col como che è la partita precedente che noi abbiamo dovuto sistemare i duelli in mezzo al campo per poterla mettere a posto anche con con il cagliari in cui poi abbiamo vinto 4 a 0 quindi poi i risultati sono sempre quello che sono e il cagliari voi vi ricordate una partita semplice non è stata fatta una partita semplice nel primo tempo ci hanno avviato ammazzate ne abbiamo dilagato nel secondo con il parma la stessa cosa però col parma è stata la prima di lukaku quindi si erano parlati di scuse adesso cominciano a diventare tante le partite in cui il mister deve mettere mano alla difesa e deve mettere mano ai duelli in mezzo al campo nella parte nevralgica del campo per poterla sistemare allora io dico una cosa a conte a cui voglio un mondo di bene che ammiro tantissimo per il lavoro che sta facendo se in questa partita noi dobbiamo quasi gioco forza se non considerando il secondo tempo bocciare la partita di gilmore è perché tu hai messo in campo una squadra di merda cioè che ha giocato di merda perché se in una partita tu non riesci a salvare mezzo giocatore se non il portiere questo parlato specialmente nel primo tempo ma non che nel secondo tempo sia cambiato poi così tanto è un po' la responsabilità sarà tua non è che questi sono diventati tutti i brocchi ma guarda che magari negli errori tecnici non era voluta questa cosa perché veramente i giochi ragazzi oggi hanno sbagliato di tutto però ce l'aveva proprio annunciato sta partita cioè se ci andiamo a rivedere quella conferenza che abbiamo recitato qualche l'altro giorno era proprio quella che la partita che ha descritto conte l'abbiamo vista l'elmetto la sofferenza dobbiamo sfruttare ci sarà da battagliare cioè alla fine era proprio voluta questa partita c'era proprio voluta lui la voleva giocare così e se l'è portata a casa così cosa ci dice chapeau solo questo rincuorriamoci con la classifica vediamo perché un napoli a 19 punti 15 gol fatti 5 subiti abbiamo raggiunto la la seconda migliore difesa che è l'empoli facendo questo gol oggi quindi bello rincuorriamoci con questo ragazzi speriamo che andrà bene sempre in ogni giornata perché poi antonio diciamo che la cosa che lo sta che secondo me sta facendo meglio in questa stagione che non abbiamo mai visto un napoli uguale in tutte le partite cioè c'è sempre stato un cambiamento qualcosa di diverso anche attraverso il cambio modulo il fatto anche che adesso non so state notando non sta più andando mc tommenie a pressare vicino al luca come stanno andando anghissà e sta politano rimane dietro cioè stiamo guardando sempre un napoli diverso quindi io sono dell'idea che finché la squadra cambia si evolve l'avversario non potrà mai leggerti non potrà mai leggerti perché se tu cambi sempre non è impossibile cioè veramente impossibile leggerti quindi speriamo che funzionerà e continuare così antonio ragazzi questo video finisce qui fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi condividetelo così ci aiutate a crescere come canale e forza napoli sempre a più nemmo andatevi a fare una doccia ok proprio stiamo tutto sul rato